La suddivisione delle nuove compensazioni per i territori che ospitano ex centrali nucleari è stata pubblicata nei giorni scorsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e a Caorso, in provincia di Piacenza, sono stati destinati 798 mila euro in riferimento all'anno 2016. Le risorse, come stabilito dallo stesso Comitato, sono testualmente rivolte alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, della bonifica dei siti inquinati, della gestione dei rifiuti e della difesa del territorio, oltre che della conservazione delle aree naturali protette e della tutela e valorizzazione della biodiversità. Quella che però resta ancora da risolvere è la questione delle scorie atomiche. La tematica è nei programmi della Commissione Industria del Senato proprio in questi giorni, con tanto di ispezione nel sito di Caorso dei depositi temporanei. Una modalità, quella del sopraluogo, che precede la pubblicazione della mappa dei siti idonei ad ospitare il deposito. I tempi dunque sembrano dilatarsi ulteriormente.